buona giornata buona giornata amici oggi è giovedì 5 ottobre 2023 e questa è la rassegna stampa di fano tv iniziamo la giornata dando un'occhiata ai giornali il resto il carlino il corriere adriatico per quanto riguarda le pagine locali le pagine nazionale ovviamente hanno tanta notizie sull'incidente stradale il terribile incidente stradale che si è verificato a mestre ci sono articoli che riguardano le cause che hanno determinato l'incidente soprattutto la natura del guardrail che non ha retto all'impatto con l'autobus e poi le vicende dei passeggeri che purtroppo sono morti tra cui c'erano anche dei bambini questo però riguarda le pagine nazionali noi ci limiteremo invece alle cronache locali e intanto passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccola eccola è santa maria faustina kowalska una polacca una polacca visse nel ventesimo secolo fece parte della congregazione della beata vergine maria della misericordia e la sua peculiarità fu quella di comporre un diario personale un diario che è un resoconto particolareggiato di rivelazioni e di esperienze mistiche tra cui la forma di preghiera della coroncina della divina misericordia che avrebbe concesso a chi l'avrebbe recitata particolari grazie e quindi un rapporto più diretto con dio questa è santa maria faustina kowalska ed ora diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo oggi su tutte le marche cieli in prevalenza sereni poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati il mare è poco mosso la temperatura la temperatura massima sarà di 23 gradi sta scendendo sensibilmente rispetto ai 28 27 gradi dei giorni scorsi la minima si è testata su 14 ebbene 14 sono valori prettamente autunnali ed ora apriamo il giornale il resto del carlino ha una notizia importante un progresso rispetto alla vicenda del ritrovamento del cadavere fatto nei giorni scorsi sulle rive del fiume metauro risolto il giallo del cadavere è un giovane fuggito dall'ospedale l'autopsia ha escluso la morte violenta già si era verificato da un esame autoptico del corpo del giovane non ha fratture l'uomo era stato operato all'ospedale santa croce e si era dimesso sotto la sua responsabilità aveva ancora dei problemi fisici e probabilmente sono questi che poi hanno causato la morte per quanto riguarda appunto i problemi post operatori non si tratta dunque del ragazzo scomparso un mese fa a monte labate comunque ha un nome il giovane africano ritrovato l'altro ieri senza vita appunto sul metauro nei pressi della foce identità che non è stata ancora resa nota dagli inquirenti ma gli inquirenti ormai lo conoscono perfettamente ebbene il l'esame dell'autopsia l'autopsia ieri è stata particolarmente complessa si sono dato poi le condizioni del cadavere che era insomma era lì versava da diverso tempo probabilmente anche un mese e quindi sono stati utilizzati dei procedimenti molto sofisticati molto all'avanguardia e soprattutto per rilevare le impronte digitali dato appunto che la pelle ormai si era deteriorata dunque risolto il cadavere risolto il nome il giallo del cadavere ritrovato sul metauro e poi abbiamo una azione importante compiuta dai carabinieri hanno effettuato tutta una serie di controlli nei punti focali dove è vivace anzi direi che è complessa la situazione dell'ordine pubblico in diversi punti del centro storico ma anche nelle vie della città 100 persone controllate 65 veicoli fermati ebbene sono state rilevate presenze di droga e quindi sono stati denunciati e segnalati alla prefettura dei ragazzi che avevano con sé delle quantità di droga di stupefacenti più lampeggianti e divise in centro storico negli ultimi giorni è stato intensificato il controllo del territorio con servizi straordinari dei carabinieri della compagnia di fano ebbene soprattutto controllata piazza amiani i portici dei gabuccini e ancora la rocca malatestiana il pincio insomma i punti focali sono stati usati anche i cani i cani antidroga del nucleo cinofili di pesaro che hanno sorpreso tre giovanissimi italiani di 19 18 e 21 anni al pincio con addosso piccoli quantitativi di stupefacenti i due più piccoli avevano un grammo di ascis e l'altro 4 grammi di marijuana sono stati quindi segnalati come ho detto alla prefettura di pesaro e urbino giriamo la pagina e vediamo il volto sorridente di monsignore andrea andreozzi vescovo di fano cagli fossombrone e pergola ebbene il vescovo ieri ha incontrato la stampa a 90 giorni dal suo insediamento appunto nella diocesi ebbene ha incontrato la stampa ha incontrato i giornalisti ha risposto alle domande che i giornalisti gli hanno fatto e ha fatto un ritratto di quello che lui ha visto entrando nella diocesi nelle quattro diocesi riunite appunto del nostro territorio ha parlato anche di vocazioni ha parlato anche di presenza dei presbiteri solo 85 sacerdoti lo mette in evidenza il titolo del resto del carlino per 73 parrocchie ma sono sacerdoti che hanno una certa età una certa età pensate lui ha 55 anni il vescovo e sono pochissimi i sacerdoti che sono più giovani di lui gli altri hanno una veneranda età e questo veramente è un problema per la gestione delle parrocchie per l'apertura delle chiese ma dobbiamo anche considerare lo stato delle parrocchie in italia l'italia è particolarmente parcellizzata per quanto riguarda il numero delle parrocchie a confronto ad altre realtà molto più vaste molto più ampie dove un sacerdote deve gestire chilometri chilometri di terreno pari non so a tutta l'italia centrale pensate le parrocchie dell'argentina oppure di altri paesi molto molto vasti siamo in una fase di transizione ha detto il vescovo i preti sono pochi e anziani ma non voglio giocare a risico insomma una importante un'importante missione quella che si accinge a fare il vescovo e però ha già ottenuto dei dei successi pensate al momento c'è un seminarista al seminario regionale di ancona e tra dieci giorni e questo veramente è un importante avvenimento un avvenimento su cui far festa ebbene ci sarà l'ordinazione di un nuovo prete don marco rulli dopo dieci anni dall'ultima volta che un prete è stato ordinato ci sono poi altri argomenti che il vescovo ha trottato con la stampa e pensate l'atto di cortesia il vescovo è sceso dai suoi ambienti dai suoi appartamenti alla porta ad ingresso dell'episcopio e ha atteso uno ad uno il giornalista stringendo loro la mano per poi accompagnarli di sopra nella sala degli arazzi dove si è tenuta la conferenza stampa ottobre è il mese contro i tumori al seno un mese dedicato appunto alla prevenzione visite al seno gratis casi in aumento oppure anche tra i maschi per tutto il mese di ottobre fanno e pesaro i medici saranno a disposizione per gli esami per quanto riguarda appunto la lotta contro il cancro al seno prevenzione e cura del tumore ecco gli appuntamenti che vengono predisposti sono visite gratuite e appunto tutte le persone che hanno poi una certa età ma anche quelle giovani sono invitate a partecipare a questa iniziativa ieri le iniziative sono state presentate nella sala della concordia del comune di fano dall'assessora Sara cucchiarini era presente anche la presidente del consiglio comunale carla cecchetelli e molte molte rappresentante rappresentanti di associazioni di enti che appunto si occupano della materia per tutto il mese di ottobre saranno assicurate visite senologiche gratuite anche nella sede della lilt di via ponchielli a pesaro e poi ribadita l'importanza della prevenzione dal dottor magalotti che ha ricordato come nel suo reparto pensate nel 2023 sono state operate al seno 400 donne mentre 670 sono stati casi di varie patologie mammarie quindi 400 donne operate al seno solo in un anno ma in un anno nemmeno compiuto perché siamo ad ottobre giriamo pagina parliamo del waterfront perché oggi c'è un importante appuntamento alle ore 18 nella sala assemblea del marine center l'ex laboratorio di biologia marina di fano in sassonia dove verrà presentato il progetto del waterfront di sassonia ebbene come sempre accade quando ci sono tante tante novità rivoluzioni per quanto riguarda l'assetto ambientale di determinati punti della città sorgono delle perplessità sorgono dei malumori sorgono anche delle proteste ebbene in questo caso il punto critico è l'eliminazione di parcheggi quei parcheggi che sono antistanti all'anfiteatro rastat di fronte all'hotel cristallo ebbene questo spazio sarà trasformato in un bosco in un'area verde ebbene ci sono problemi perché le associazioni diserteranno così come evidenzia il carlino l'appuntamento di oggi pomeriggio a sassonia il comune cancella 13 parcheggi le associazioni di categoria boicottano l'incontro di oggi per presentare il progetto di riqualificazione di sassonia è già tutto deciso noi non siamo stati coinvolti questa è la tesi appunto delle associazioni e quindi ci rifiutiamo di intervenire a questo appuntamento ed ora passiamo ad urbino ad urbino c'è l'appello di alcune studentesse che si sentono perseguitate da un molestatore è un molestatore che compie degli atti contrari alla morale di fronte a queste ragazze le quali ci sono rivolte appunto alle forze dell'ordine lo hanno denunciato viviamo con gli incubi per colpa del molestatore si tratta di tre ragazze universitarie per colpa sua abbiamo crisi di ansia e insonnia si intervenga certo non è una cosa facile vedere una persona che magari si masturba di fronte ad un'altra e poi la insegue continuando a fare quello che stava facendo bisogna intervenire e l'uomo è stato denunciato giriamo la pagina vediamo ancora una carenza sulla sanità a sasso corvaro e auditore dove sono state sospese le visite oculistiche perché perché il budget è finito polemica sasso corvaro è intervenuta la consigliera regionale micaela vitri chi telefona scopre come stanno le cose vai occhi dice rimediamo però intanto nel frattempo tutte le prenotazioni sono chiuse e che deve fare una visita agli occhi deve rivolgersi a un'altra struttura torna a cantiano la fiera dei cavalli natura musica e divertimento in un contesto ambientale che è bellissimo quello dei nostri appennini dopo il blocco del covid ritorna questa manifestazione l'appuntamento è di nuovo ricco di eventi e di spettacoli la prima iniziativa si terrà domenica prossima e poi quella successiva ebbene che cosa troveremo andando a cantiano troveremo un cocktail assortito tra spettacoli equestri di alta qualità la presenza degli allevatori del cavallo del catria che è una razza veramente stupenda e tutto l'indotto legato alle tipicità e alle eccellenze appunto legate al mondo dei cavalli la prima domenica sarà incentrata proprio sul cavallo del catria nella seconda si introdurrà anche il tema del turismo sostenibile e insomma andare a cavallo è anche una di quelle pratiche che rende piacevole una vacanza a caglio invece si protesta per l'eccessiva invadenza dei parcheggi a pagamento il comitato ipercritico nei confronti di questa situazione a caglio abbonamenti veramente costosi pochi i posti con le righe bianche ma ci dovrebbe essere anche una normativa che impone che i parcheggi a pagamento devono essere una certa percentuale rispetto ai posti bianchi ai posti liberi e sembra che a cagli questo non accada i residenti si sentono molto penalizzati a pergola urbani a e fossombrone va certamente meglio hanno detto e quindi non si plaga questa protesta vediamo anche qualche notizia che riguarda pesaro dove vediamo che ci sono difficoltà per quanto riguarda il trasporto pubblico in modo particolare sulla linea pesaro urbino studenti pressati come sardine un inferno e a volte è meglio non prenderlo quel bus ebbene si denuncia un sovraffollamento degli autobus molti spesso non riescono a prenderlo perché già è intasato il bus che passa davanti a loro e devono aspettare magari un secondo automezzo la protesta degli universitari sulla linea pesaro urbino quando hai l'esame rischi addirittura di non arrivare in tempo ecco perché la protesta dei ragazzi il biglietto costa 3 euro e 90 centesimi l'abbonamento 5 70 c'è uno sconto invece per gli universitari e interviene a questo proposito anche il direttore di ami il direttore massimo benedetti pendolarismo aumentato cose spesso raddoppiate ebbene il pendolarismo in modo particolare nel sistema pubblico di trasporti è aumentato dopo il covid e di fronte al disagio degli utenti per il sovraffollamento adriabus spiega mettiamo in servizio sempre uno o due bis per non lasciare a terra nessuno ma evidentemente però dei disservizi si sono verificati e quindi occorre fare di più per eliminare questi disagi ed ora vediamo un altro caso di atti sessuali insomma che vengono denunciati accusato di atti sessuali come appunto è accaduto in quel caso di urbino nei confronti delle tre studentesse l'imputato però non si trova si tratterebbe di un pakistano che nel 2022 baciò un bambino per strada ora è in ritracciabile ma può andare di fronte al giudice fino al limite di 24 anni dopo i fatti commessi a seguito della recente riforma non si può procedere per sempre contro l'imputato che è irreperibile e quindi il processo rischia di annullarsi vediamo ancora altri titoli che riguardano pesaro ma riguardano un po tutto il territorio perché parliamo di influenza ebbene siamo ad ottobre e il covid non è che fuori della porta il il covid è lì dietro l'angolo ma è dietro l'angolo anche l'influenza quel male di stagione che si manifesta con raffreddori tosse male alla pancia agli intestini ebbene l'influenza è alle porte e allora che cosa accade che il sistema sanitario fa una controffensiva sono pronti i vaccini anche per il covid che si possono associare con quelli dell'influenza tutto parte il 12 ottobre quindi tra pochi giorni parte la campagna di prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale 1 quella della provincia di pesaro urbino consigliata ai bambini anziani e ai pazienti fragili medici pediatri e farmacisti sono pronti ma ci si potrà rivolgere anche ai distretti qui ci sono tutti gli orari e gli indirizzi dove si possono fare e appunto questi vaccini adesso io non ve li leggo perché sono veramente tanti ma sono notizie molto particolareggiate vediamo ancora un altro titolo che riguarda la provincia di pesaro anzi la città di pesaro sul resto del carlino il colosseo in pista balla l'impegno la disco sposa anche i temi sociali un nuovo corso dello storico locale di montecchio che riapre sabato prossimo ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico ecco qua l'articolo di apertura dedicato al caso del giovane trovato morto sulle rive del metauro autopsia sul cadavere mummificato unica certezza le impronte digitali e poi abbiamo l'articolo dei controlli dei carabinieri nei punti più caldi della città di fano dove si sono verificate anche aggressioni dove continuamente si fa dello spaccio di stupefacenti carabinieri setacciano pincio piazza amiani e rocca trovata della droga e poi il waterfront ottime le promesse secondo appunto gli operatori qui non si parla di associazioni di categoria ma si parla veramente di operatori della ristorazione e degli alberghi del sistema alberghiero ma c'è il problema dei parcheggi senza parcheggi e una disfatta lo dicono appunto gli operatori i quali sperano che le promesse poi di recuperare questi posti auto vengano mantenute i primi cento giorni da vescovo visione ampia della chiesa monsignore andreozzi e la sua missione tra collaborazione e collegialità ebbene anche qui abbiamo il resoconto della conferenza stampa del vescovo di fano di fano fossombrone cagli e pergua invece a terre roveresche vediamo un incendio un incendio che si è verificato recentemente un violento incendio ha distrutto completamente un grande casolare per fortuna era disabitato in località rialdone al confine tra terre roveresche e mondavio nessuna persona è rimasta coinvolta anche per l'edificio perché appunto non era abitato i proprietari dello stabile non risiedono in zona le fiamme sono divampate per cause ancora di inaccertamento da parte dei vigili del fuoco per il piccolo commercio una fiscalità di vantaggio a mondolfo paolini e mochi sugli incentivi all'apertura di piccole attività nei centri storici dei centri storici di cosa riguarda quest'articolo riguarda la chiusura di un supermercato si con te ex conad a mondolfo in via romont si priva un servizio perché poi la gente doveva fare la spesa insomma deve andare percorrere ancora più chilometri deve andare più lontano per vedere un negozio per trovare un negozio e quindi fare la spesa quotidiana quindi un'incombenza che bisogna fare tutti i giorni e quando chiude un negozio si capisce la privazione che tutta la comunità che appunto adesso fa riferimento prova a questo riguardo ecco perché appunto ci sono iniziative che cercano di dare incentivi ai negozi che si aprono nei piccoli centri vediamo anche Senigallia degustazioni show cooking e stand pane nostrum i segreti dei lievitati ebbene pane nostrum è una delle iniziative più importanti che si svolgono in bassa stagione nel mese di ottobre a Senigallia con tante tante iniziative che riguardano le farine il pane questo alimento così essenziale così flagrante quando si mangia nelle ottime condizioni insomma che dà da correre molti molti cibi più sofisticati il pane semplice il pane buono il pane sacro per una tradizione atavica a questo punto stiamo andando in conclusione vediamo anche come il Corriere Adriatico tratta le notizie pesaresi vediamo che l'apertura è dedicata ancora alla visita del generale Figliuolo ieri in provincia il generale ha promesso rimborsi celeri a tutti coloro che hanno subito danni all'alluvione e probabilmente aumentano anche i comuni che saranno inseriti nel progetto dopo i sette che erano stati già approvati Urbino, Pesaro, Fano, Montegrimano, Montelabate, Gabicce e Sasso Corvaro altri 17 nelle Marche hanno possibilità ancora non è deciso ma hanno possibilità di entrare in questo novero di comuni e per quanto riguarda la nostra provincia sarebbero Macerata, Feltria, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbani con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con il Tg di Fano TV Occhio alla Notizia e domani alla rassegna stampa delle ore 7 grazie per l'ascolto, a risentirci